Ciao a tutti ragazzi, qui il vostro Arcade Parle, siamo qui con la terza parte della guida per The Dops Arcade dove possiamo proseguire finalmente dopo tutto quanto il setup dell'ignoto che erano i primi 4 round che ha sicuramente richiesto molto tempo ma da qui in avanti, specialmente per i round bassi, tutto quanto questo setup ci permette di andare in maniera molto molto tranquilla, specialmente in singolo ma ovviamente anche in co-op, a seconda di tutti quanti i fatti che avete utilizzato, che avete preso e circa come vi siete organizzati. Tutto quanto questo pezzo di guida andrà avanti per spiegarvi un pochino come sono i round sfida, tutti quanti i nemici speciali che andremo ad incontrare e tutte quante le arene. Darò consigli per la singolo e anche la co-op, devo aumentare che assolutamente ho giocato in singolo un player o in co-op due player. Ho comunque fatto partite in 3-4 giocatori dove il setup è circa simile, quindi cercherò di dare più consigli in assoluto. Arrivati quindi al round 5 cambieremo finalmente arena, arriveremo in quella delle trappole dove c'è la trappola di Black Ops 4 e anche il vlogger di Shinonuma. Questo è il primissimo round sfida che è solitamente il primo round di quando cambiamo arena, non è una cosa fissa ma molto spesso c'è e quelli che sono i nemici speciali presentati in questa round sfida diventeranno poi un nemico fisso di tutte quante le arene e i round successivi. In questo caso siamo alla scuola di gladiatori, quindi i gladiatori e i campioni di Nine arriveranno addosso e sono alcuni dei nemici più comuni in assoluto per tutti quanti i round successivi, per cui i gladiatori e i campioni che semplicemente o vi salteranno addosso o vi tireranno tutte quante le asce. Non sono estremamente resistenti ma quanto meno fastidiosi e nuovamente molto molto numerosi. E sono questi comunque ancora dei round molto bassi, specialmente per chi ha un setup come passi furiosi o addirittura la macchina mortale per potenza di fuoco, qua non c'è nessuna strategia particolare. È comunque un'ottima arena perché le trappole si possono danneggiarci ma possiamo anche utilizzarle per danneggiare tutti quanti gli altri nemici e ucciderli a gran numero, ma tutto quanto va comunque molto tranquillo e questi round non durano più di 1 o 2 minuti. Per seguire quindi per questi round arrivati al round 8 una volta completato uscirà fuori il teleport per poi ogni volta cambiare arena. Questa cosa andrà a ripetersi ogni 4 round, per cui 4 round per ogni singola arena, avanti così fino a mamma gorilla, dopodiché ricomincieremo tutto quanto ma stiamo andando forse un pochino troppo in fretta, passiamo appunto alla prossima arena. L'arena numero 9 presenta il round sfida degli zombie esplosivi con i barilli in testa. È una sfida un pochino particolare e strana, l'area in sé comunque è veramente ottima se volete già iniziare a girare, ma nuovamente è un round veramente basso, quindi basta stare tranquilli, andare in giro, evitare ovviamente i gruppi di zombie giganteschi, sparare e cercare di utilizzare come al solito meno nuke, meno scatti e ovviamente cercare di non morire. Questi barilli esplosivi degli zombie sono comunque una cosa veramente strana perché possono essere sia utilizzati per danneggiare gruppi di zombie, ma possono anche noi stessi danneggiarci. Inoltre questi zombie con barilli esplosivi in testa hanno un hitbox veramente gigantesca, ma anche un hitbox che può bloccarci veramente grande. A tutto questo combiniamo nuovamente gladiatori e campioni, può essere un pochino strano rimanere incastrati in certe zone. Consiglio di non entrare nelle zone più piccole che ci sono agli angoli e rimanere nella parte più grande centrale. Durante questi round ovviamente cercano di sopravvivere, utilizzate tutti quanti gli oggetti che spawnano per terra, raccogliete veramente tutto quanto, ovviamente cercano di non rischiare di morire o cose del genere, e state circa attenti a quelli che sono i fatti di ogni player perché alcuni oggetti nelle mani di qualcuno sono molto più potenti di altri. Se qualcuno per dire ha lo scudo divino, lui dovrebbe raccogliere le lame, tutti quanti i guantoni da pugile e i barili, se qualcuno ha la potenza di fuoco dovrebbe prendere più armi possibile, chi ha i piedi furiosi ovviamente non deve raccogliere quelli che ci sono per terra perché già è velocissimo, tutte queste cose del genere. Se raccogliete qualche oggetto per sbaglio può capitare, molto spesso mi capita di raccogliere oggetti che letteralmente mi spawnano addosso. Passati al round 13 passiamo a quella che è l'arena forse più fastidiosa e un pochino più brutta, specialmente in round alti ma anche un round un pochino così basso può dare alcuni problemi, questa è l'arena delle scale o il teatro, chiamatelo un pochino come preferite, e siamo al round 13. Nessun round sfida particolare ma nuovamente gladiatori, campioni e zombie con i barili esplosivi. Consiglio principalmente, almeno per la singolo, di stare nella parte sotto, salire sopra le scale, è un pochino una scelta per emergenze, si può incastrare in maniera molto molto facile. Per la co-op, ancora una volta, girare secondo me è molto presto e il round forse è troppo basso, ma se ci ricavete iniziare a farlo, come al solito dovrebbe girare chi ha i piedi furiosi se qualcuno li ha, nella parte centrale sotto, gli altri dovrebbero circa stare sopra e cercare di camperare, sparando a tutti quanti gli zombie, sia al centro sia ai lati. A questo punto se iniziate ad avere la necessità di utilizzare nuke e scatti, ricordate ancora una volta, ogni volta che utilizzate una nuke o un scatto avete 3 secondi di invulnerabilità, in cui potete oltrepassare qualunque zombie e zombie speciale per poterlo one-shotare. Inoltre, se siete in co-op, mi raccomando, chiamate quando utilizzate le nuke, evitate il cosiddetto double nuking, perché è uno spreco di armeria veramente allucinante. Un conto è uno scatto che qualcuno utilizza per sopravvivere o uccidere molti zombie, un conto è una nuke, che è letteralmente qualcosa che uccide tutti quanti gli zombie nella mappa, per cui utilizzarne due è un completo spreco. Saltiamo adesso ad un'altra arena che può essere o molto facile o molto difficile, e parte la sfida arrivano dal basso e da adesso in poi gli zombie potranno sponare anche dal pavimento, oltre che dai lati delle mappe. Questa è una cosa un pochino strana perché questa arena è completamente circolare, il che è molto comodo, ma in questo round sfida tutti gli zombie invece ci circondano. Inizialmente sono molto lenti e facili da uccidere, dopo iniziano a correre veramente molto molto in fretta. Qua qualche nuke o qualche scatto potrebbe essere necessario e non c'è purtroppo una specie di metodo per girare in co-op, o quantomeno non c'è uno spot in cui qualcuno può camperare mentre un altro gira, quindi si trattate soltanto di stare attenti e guardare per bene la minimappa se siete in prima persona per vedere gli spawn e ovviamente cercate di utilizzare meno oggetti possibili, a meno che non sia una completa emergenza. Sfruttate per bene magari i lanciorazzi, China Lake, Tesla e tutte queste cose per uccidere tanti zombie in veramente poco tempo. In tutto questo e questi round potrebbe essere capitato di entrare in un'area bonus o di quelle che abbiamo sbloccato nell'ignoto o altre zone aggiuntive. È difficile che vi spawnino tutte quante perché sono nuovamente completamente casuali, per cui cercherò di mostrarne alcune, ma comunque nella guida, che come sempre io utilizzo la guida scritta, sono spiegate per bene tutte queste aree bonus tutti gli oggetti che sono nascosti. Per dire, nella stazione di Weston ci sono nascoste due nuke e due scatti e bisogna raccogliere tutto quanto il resto, tra cui lame, guantoni, sfere elettriche Tesla, tutti gli orsetti, tutte queste cose, che comunque sono un ottimo bonus. Come al solito in co-op cercate circa di dividervi tutti questi oggetti, questo equipaggiamento in singolo, saltatela per tutto e raccogliete tutto quanto. Nei round successivi di questa arena circolare, dato che ci sono meno zombie che spawnano dal terreno, dovrebbe essere leggermente più facile girare, state comunque attenti a quelli che sono i pali Tesla, perché in prima persona ovviamente non li potete vedere se state camminando all'indietro e se si attivano possono comunque danneggiarvi, quindi un colpo di Tesla, un colpo di zombie potrebbero mettervi praticamente one shot. Se siete in co-op e state girando tutti quanti assieme, state attenti perché chi ha i passi furiosi, se li ha, corre molto più veloce degli altri, il che è comodo per raggruppare gli zombie, ma potrebbe anche un pochino incasinare, diciamo, il movimento di questi ultimi, quindi potrebbero ogni tanto seguire un player, ogni tanto un altro, potrebbe essere un pochino confusionario. Passato il round 20, che era forse la parte iniziale molto più facile, adesso iniziano i primi, tra virgolette, problemi, non per difficoltà estrema, ma comunque serve una certa attenzione, perché qua inizia ad andare a terra, può essere molto molto probabile o quantomeno più facile. Prima round sfida del round 21 sono tutti quanti gli zombie fantasma, che ancora una volta diventeranno uno zombie classico, comunque un nemico ricorrente per tutti quanti i round successivi. Sono una cosa abbastanza insopportabile, perché sono tutti quanti mezzi fantasma che non si vedono benissimo, e sono comunque abbastanza veloci, e non vengono praticamente one-shotati, vengono uccisi, si ritira il trasporto e ne vanno uccisi ancora una volta. In tutto questo altri zombie normali, e più avanti ancora una volta, gladiatori, campioni, zombie con i bagli esplosivi, tutto quanto, come vedete, va praticamente a ripetersi. In questa arena si potrebbe già pensare a far girare qualcuno, specialmente ancora una volta chi ha i passi furiosi, e gli altri possono camporare negli angolini, cercando di sparare agli zombie che spawnano, e agli zombie al centro. Sconsiglio di farlo in questo round 21 che era un sfida, perché questi zombie fantasma spawnano veramente dappertutto, con gli spawn classici degli zombie e gli gladiatori, si può ancora fare invece una specie di camping, specialmente chi ha la macchina mortale o la gallina, che fa veramente un ottimo DPS. In tutto questo, ancora una volta, ricordatevi di raccogliere tutto quanto quello che spawnano per terra, specialmente oggetti molto potenti come un arcade, che oltre che letteralmente velocizzarvi tutto quanto il round in maniera estrema, vi fanno andare in una zona arcade bonus, in cui raccogliere nuke, qualche gemma per il moltiplicatore, qualche vita, qualche scatto, se vi manca qualcosa, cercate di raccogliere tutto quanto. Proseguiamo quindi nella prossima arena, dove ci sono i fantasmi di The Rise and Drac, che io li chiamo in questo modo, perché sono il precedente degli altri zombie fantasma, in questo caso molto più deboli, ma anche molto, molto più veloci. Come sfida, secondo me, è abbastanza semplice, se abbiamo le armi giuste come la potenza di fuoco e la machine gun, con l'RPD possiamo comunque quasi one-shotare questi fantasmi, ma sono veramente tanti, si teletrasportano proprio su di noi, iniziano a hittarci, e quando sono così tanti potrebbe essere relativamente un problema. Con questo primo round sfida possiamo tranquillamente tutti quanti i player, se siamo in coop, stare soltanto attenti a guardarci le spalle e uscire tutti quanti questi fantasmi. Comunque è un round molto breve di circa 2-3 minuti, questi saranno comunque altri nemici ricorrenti. Già il round successivo, sempre in questa arena, potrebbe portare a alcuni problemi, specialmente, mi ricordo, le primissime partite che ho fatto su The Dops Arcade. In singolo si può fare un semplice giro in tutta quanta l'arena, passando intorno, anche se l'acqua è stata attenta ogni tanto vi può rallentare, gli zombie invece continuano a correre veramente molto molto in fretta. Combinato ad altri zombie fantasma, gli altri zombie fantasma di Dries and Drak, gli zombie normali, campioni, potete vedere che i nemici speciali iniziano ad essere veramente tanti e può risultare molto fastidioso, o addirittura troppo confusionario, perché ci sono veramente tanti zombie, che non sono magari estremamente resistenti, ma possono hittarvi veramente tante volte. Prima persona ancora una volta si può resistere a più colpi, ma comunque morire è ancora probabile, la probabilità si alza praticamente ogni singolo round. Se siete in 3-4 player come al solito bisogna cercare un metodo di girare e camperare assieme, perché girare in 4 persone è veramente allucinante, in 2-3 player si può pensare ancora di girare in gruppetti diciamo un pochino più piccoli, in tutta quanta questa arena, che è comunque relativamente spaziosa e gli spawn sono soltanto agli angoli, giusto qualche zombie fantasma in più al centro, comunque nulla di troppo assurdo. Ancora una volta sfruttate per bene tutti quanti gli oggetti, perché in alcuni casi possono letteralmente rendere un'arena o un round 100 volte più facile. Le cose croccanti iniziano il round 29 con la prima battaglia vice-boss nell'arena Bagno Caldo, così la chiama il gioco per il round sfida dove spawna l'ennesimo Gignis. L'abbiamo già uccisi a decine praticamente contando l'ignoto, quindi non dovrebbe essere troppo un problema, conosciamo per bene gli attacchi. Il problema è che comunque in mezzo ci sono tutti quanti gli zombie, i gradiatori e tutte queste belle cose. Consiglio comunque di dedicarsi parecchio a sparare al boss, perché se lo uccidiamo finisce istantaneamente questo round e non dobbiamo passare altri 1-2 minuti a uccidere altri zombie, cosa molto facile se abbiamo ovviamente potenza di fuoco e robe del genere, se avete un setup molto più basic, senza troppa potenza che sia per galline o altre cose del genere, prendetela comunque con calma, cercate ovviamente di non morire e sfruttate comunque tutti quanti gli oggetti che potete trovare, specialmente uno spasso o una macchina mortale per terra, può fare veramente la differenza. Uccidete il Gignis e tutto quanto è bello che è risolto. Bisogna iniziare comunque adesso con una strategia molto più precisa, quindi inizierò a dare più consigli e strategie possibili. Qua ovviamente far girare la persona principale, che sia quello con passi furiosi o semplicemente il player designato a girare nella parte sotto, è una cosa molto facile, l'aria è veramente ampia. Consiglio agli altri player, specialmente chi ha la potenza di fuoco, ma generalmente chi non vuole girare, a stare nella parte sopra. Ci sono comunque diversi spawn a cui stare attenti, ma la maggior parte degli zombie si muovono nella parte centrale al piano di sotto, quindi stare sopra e camperare è un ottimo posto per stare al sicuro e cercare di supportare il player che sta girando. Se per caso il player che sta girando dovesse morire, state attenti perché per qualche secondo tutti quanti gli altri zombie cercheranno di raggiungervi e uccidervi. Esattamente come per nuke e scatti, rianimarsi con una vita dopo essere andati a terra permette di avere tre secondi di invulnerabilità in cui toccare e uccidere letteralmente tutti quanti gli zombie nella mappa, che come al solito può essere comodo per uccidere una massa intera che magari ci dà fastidio e appunto ci ha mandato a terra. Continuate così fino alla fine del round 32 e passiamo poi al round 30 te con un altro round sfida, gli zombie catalyst elettrici di Black Ops 4. Questa arena tutta quanta ghiacciata è molto molto spaziosa e gli spawn sono distribuiti secondo me in maniera molto molto precisa. Anche in questo caso si può permettere a qualche player di girare da solo, ma secondo me qua funziona molto bene girare in due player e entrambe le zone della mappa, che sono comunque abbastanza spaziose e gli spawn ripeto sono ben separati, quindi non dovrebbe esserci troppo il problema di magari incastrarsi i gruppi di zombie. Attenti a questi zombie catalyst perché da vicino tolgono veramente tanto e possono anche estordirvi. In generale comunque non sono troppo resistenti, ma sono comunque immuni a tutti quanti gli attacchi elettrici, tra cui pali tesla, sfere tesla e cose del genere. I round a mio parere fino a questo punto comunque non sono troppo complicati, i veri problemi partono da round 37 e 41 in poi, sia per le arene, sia per il numero di nemici e la loro resistenza. Qua ancora se avete un ottimo setup tra cui vite, nuke e scatti siete messi molto bene è un ottimo inizio partita, ma state comunque attenti perché tra poco la difficoltà avrà un altro salto veramente molto molto grosso. Passiamo quindi alla seconda arena ghiacciata che può essere molto bella o molto brutta a seconda dei punti di vista. Comunque altra battaglia vice boss un padre corrotto che è una cosa molto molto fastidiosa. Non ha comunque troppa vita, specialmente come al solito con macchine mortali, minigun, spasso, cose del genere, viene buttato giù molto molto in fretta, ma comunque state attenti ai suoi attacchi. È lo stesso di Black Ops 4 per cui attacchi col vomito da lontano, che anche se essendo molto lenti fanno un certo danno, e specialmente fa spawnare quelli che sono i puzzoni di Kimmerer Toten. Questi possono sembrare un piccolo fastidio, ma sono alcuni dei nemici più fastidiosi e più potenti in tutto quanto dell'Obs Arcade. Prima di tutto sono come gli zoppi, quindi bisogna mirare al pavimento per ucciderli, sono leggermente più veloci degli altri zombie, e una volta uccisi tutto quanto il fumo, sia rallenta noi, ma sia velocizza e rende più resistenti gli altri zombie, come i puzzoni di Alpha Omega di Black Ops 4. Questa è una cosa che non va sottovalutata, perché rende anche lo zombie più semplice e lento una macchina da guerra che vuole distruggervi la fronte. Per cui state un pochino attenti a questi puzzoni sia a ucciderli, sia anche a dove li uccidete, perché gli altri zombie potrebbero subito dopo attaccarvi e magari buttarvi a terra. Tutto questo il padre corrotto ovviamente se vi avvicinate, evita e potrebbe one-shotarvi, e tutti quanti gli altri attacchi sono comunque parecchio fastidiosi, combinati alla presenza, come al solito, di tanti altri zombie. Questa arena ghiacciata diciamo che sia costruita per il camping, sia per girare. Se volete girare in maniera molto veloce e non avete i passi furiosi, consiglio delle gran scivolate se siete in prima persona, perché scivolare sul ghiaccio vi rende molto molto veloci. Gli spawn sono comunque tutti quanti agli angoli della zona, per cui prevedere gli spawn degli zombie e ucciderli prima è una cosa molto molto facile. Si può ancora una volta ancora girare, eppure in Coop secondo me funziona abbastanza bene. In singolo, come sempre, se andiamo da soli, girare utilizzando tutta quanta l'arena è la cosa migliore e più facile in assoluto. Passiamo adesso a quello che è l'incubo delle folle, spaghetti e polpette, o come direbbe il buon Zeus, spaghetti e bestemmie. Questa è forse la zona e round sfida più fastidioso in assoluto, che presenterà anche appunto il primo stacco, diciamo, di difficoltà gigantesca per Dead Ops Arcade. Vi faccio notare che a questo punto siamo al round 40, il round che dobbiamo raggiungere per Mamma Gorilla è il 64, ma siamo forse adesso a metà partita per la considerazione tempo. Contando tutto quanto l'ignoto e i round fatti fino ad adesso, dovremo essere circa 1 ora e 42 ore di partita, a seconda di speedrun o calma, e appunto la partita dovrebbe durare in tutto 3 ore e mezza, 4 ore, per cui siamo a buon punto, ma le cose adesso iniziano ad essere molto più lente e molto più difficili. Questa round sfida è sicuramente la cosa più difficile o fastidiosa in assoluto, perché le polpette di carne, i wraps, diciamo, di Black Ops Star di Shadows of Evil, sono estremamente veloci, molto fastidiosi, e immuni a praticamente qualunque oggetto, che sia un orologio, una Tesla, tante cose appunto non funzionano bene, e anche diverse armi come una balestra, una Ray Gun, non sono la scelta perfetta per questo tipo di nemici. Consiglio come al solito uno spasso, una macchina mortale, un RPD, qualcosa di comunque molto preciso, e che faccia comunque un buon danno. Combinato al fatto che le palline cadono dal cielo, rimbalzano, si moltiplicano, si dividono, è veramente una cosa insopportabile. Per la single lo consiglio di girare utilizzando tutta quanta l'arena, che sarà anche la stat per i round successivi con gli zombie, per la cop consiglio di far girare qualcuno nella parte, diciamo, centrale, e gli altri camperare in questa specie, diciamo, di spiaggia, che sta sulla sinistra, in cui pochissimi zombie ci raggiungono. Stessa cosa per le palline di carne, che sono un pochino più casuali, ma è comunque un'ottima zona in cui camperare, spesso vicino a diversi pali tesla. Vi dico che se avete avuto una partita perfetta fino ad adesso, con 9 vite, 9 nuke, 9 scatti, tutto perfetto, qua potrebbe essere il momento del disastro, in cui io in diverse partite all'inizio perdevo letteralmente 5-6 vite e tantissime nuke e scatti. Vi ricordo inoltre che le nuke in questo caso non one-shotano tutte le palline, ma semplicemente fanno un danno che potrebbe dividerle e moltiplicarle ancora di più, quindi la nuke si vi salva, ma non così tanto. Potete comunque ringraziare il cielo, che sono state leggermente nerfate, perché inizialmente, quantomeno in prima persona, che dall'alto sono molto forti, queste palline letteralmente toglievano tipo 70% su 100%, adesso toglievano soltanto 30% su 100%, quindi le hanno sicuramente nerfate, sono comunque molto fastidiose. Superato comunque il round sfida, e ancora una volta questo diventerà un nemico fisso dei prossimi round, una roba terribile, il problema di questa area, di questa arena, è il fatto che gli zombie successivi non sono zombie normali, bensì zombie insanguinati. Questi zombie insanguinati sono molto veloci a sponare, molto veloci a muoversi e molto più resistenti nel normale. A tutto questo palline di carne, campioni, tutte queste belle e solite cose che ci danno molto fastidio, è sicuramente l'arena più fastidiosa, e secondo me incastrata apposta a metà partita, per farci perdere tantissime vite e nuke scatti, se non siamo attenti o abbastanza schillati. Di avanti dopo che avete fatta decine di volte, è sicuramente più facile, ma tra tutte le arene, è probabilmente nella top di quelle più fastidiose o più difficili. In singolo ripeto che utilizzare tutta quanta l'arena è come al solito la scelta perfetta, ma state attenti perché tutti quanti questi zombie spawnono dal terreno, quindi è veramente molto molto facile farvi incastrare, anche mentre state girando. Per la coop state belli camperati in un punto in cui ci sono meno zombie possibili e sparate come dei dannati.